I casi sono circa 1200 ma il numero dei morti è alto, 15, ci sono anche 4 nuovi casi in reparto, la percentuale è sopra il 17%, mascherine all'aperto fino al 10 febbraio. All'indomani della morte della bimba di due anni scoppia la polemica per l'assenza in Calabria della terapia intensiva pediatrica, ma l'annunziata non ci sta, noi abbiamo sei posti. C'è anche il sindaco di Praia Mare Antonio Pratico tra le persone rinviate a giudizio nell'inchiesta Amici in Comune della Procura di Paola. Si è dato fuoco davanti alla caserma dei Carabinieri di Rennes, un docente di 33 anni di Verzino nel Crotonese, trasportato all'annunziata nel pomeriggio e stato trasferito a Napoli. Consiglio comunale aperto a Reggio Calabria, sul tavolo i presunti brogli nelle amministrative Nuovo Volto di Piazza De Nava. Chiusa alle 20, la sessione invernale del calciomercato, il Cosenza acquista tanti calciatori, buono il mercato del Crotone e della Regina. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, il Covid ancora in primo piano. Resta alto il numero dei morti in Calabria, oggi se ne registrano ben 15. Il contagio corre, ospiti e operatori di una casa di riposo a Roseto Capospulico risultano tutti contagiati anche se asintomatici. Intanto il Consiglio dei Ministri ha prorogato l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto anche in zona bianca per altri dieci giorni. Vediamo il servizio. Resta alto il numero dei decessi, 15 quelli registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione, che vanno aggiunti agli 11 di ieri, tra cui la piccola Ginevra, stroncata dal Covid a soli due anni. Diminuiscono i contagi che si fermano a 1.195 con meno tamponi effettuati, 6.847. Come sempre accade in coincidenza con il fine settimana, il tasso di positività sale al 17,45%. Il virus continua ad essere presente in Calabria, in una struttura per anziani a Roseto Capospulico, nel Cosentino, contagiati sia gli operatori che gli ospiti. Le positività riscontrate nel corso di uno screening aziendale interno, dopo che era stata riscontrata la positività di un operatore. Tutti i contagiati avrebbero completato il ciclo delle vaccinazioni con le tre dosi e sarebbero tutti asintomatici. Intanto saranno prorogate per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche, l'intesa raggiunta in Consiglio dei Ministri. Infine, domani entreranno in vigore le altre misure. Sarà necessario il Green Pass per entrare in ufficio e negozi, esclusi alimentari e farmacie, nonché le multe agli over 50 non vaccinati. Sarà l'Agenzia delle Entrate ad avviare i controlli incrociati tra anagrafe vaccinale, sistema tessera sanitaria ed elenco dei residenti per erogare le prime multe. E lo abbiamo visto in aumento i decessi in Calabria nell'ultimo periodo, numeri più elevati rispetto alle ondate Covid precedenti. La curva decresce in ritardo rispetto a quella dei contagi che ha già toccato il suo picco. Vediamo. 83 decessi negli ultimi sette giorni in Calabria, mai così tanti. In totale, da inizio pandemia, sono morte 1.872 persone, 807 in provincia di Cosenza, 561 nell'area di Reggio Calabria, 196 nel Catanzarese, 157 in provincia di Cortone, 141 nel Vibonese. Anche nel bollettino emesso ieri dalla Regione, il dato sui decessi è stato elevato, ben 11. 18 invece, 48 ore prima, nel bollettino del 28 gennaio, il record più triste per la nostra Regione. Per avere un'idea dell'incremento dei decessi nell'ultimo periodo, basta confrontare i dati relativi al mese di gennaio 2021 con quelli degli ultimi 30 giorni. Un anno fa persero la vita 109 persone, mentre quest'anno si contano 247 vittime nello stesso lasso di tempo. Perché, nonostante la stragrande maggioranza dei calabresi abbia ricevuto la somministrazione del vaccino e i passi avanti nelle terapie di Covid si muove di più? Il dato si spiega con la veloce diffusione del virus, che, complice alla maggiore contagiosità delle varianti in circolazione e la minore presenza di restrizioni, ha portato più di 40.000 calabresi a infettarsi. Tanti sono gli attualmente positivi. Nel 2021 erano poco meno di 9.000. I decessi di questi giorni sono la conseguenza del picco di contagio rilevato nell'ultimo mese. La curva, in questo caso, scende a rilento, perché tra il contagio e l'evento tragico trascorrono in media 15 giorni. Ultima notazione, delle parti di malattie infettive e delle terapie intensive calabresi riferiscono che, nella maggior parte dei casi, i pazienti che non superano il Covid non sono vaccinati. E all'indomani del decesso della piccola Ginevra, la bimba di due anni, di Messoraca, morta a causa del Covid. Il Presidente della Regione, tra l'altro, ha fatto sapere che il Dipartimento della Salute ha avviato un'indagine per chiarire che cosa è accaduto. C'è la polemica che riguarda i posti di terapia intensiva pediatrica in Calabria. Dall'annunziata si precisa che qui ci sono sei posti letto. Vediamo. La tragica morte della bimba di Messoraca, scotella Calabria, il primo passaggio da capire è il perché del trasferimento da Catanzaro a Roma. Dato che le condizioni erano estreme, hanno ritenuto i colleghi di portarla all'ospedale Bambin Gesù di Roma perché è l'unico ospedale che è in grado di effettuare la ventilazione in ECMO, che è una ventilazione extracorporea, che in tutto il centro-sud viene effettuata solo all'ospedale Bambin Gesù. In queste ore la polemica sulla terapia intensiva pediatrica assente in Calabria, ma a correggere il tiro è il dottor Giandranco Scarpelli che precisa ci sono sei posti di terapia intensiva all'annunziata di Cosenza. Posti che sono utilizzati all'orquando c'è un'esigenza di terapia intensiva nell'età pediatrica. Noi nel 2021 abbiamo avuto 38 ricoveri in questi posti di terapia intensiva pediatrica e che con ottimi risultati. L'ultimo caso che abbiamo avuto di sei mesi che abbiamo trattato, stabilizzato, iniziato la terapia con gli anticorpi monoclonali e gli antivirali e quando abbiamo visto che probabilmente c'era la necessità della ventilazione in ECMO l'abbiamo trasferita a Bambin Gesù e la bambina è tornata a casa proprio la settimana scorsa. Inutili allarmismi, lo avete sentito, è lo stesso a spiegare il perché in altri ospedali non è presente la TIN. La Regione Calabria ha un fabbisogno di posti di terapia intensiva pediatrica tra i sei e gli otto e nel decreto 89 del 2017 è stata prevista l'allocazione di questi posti nell'azienda ospedale di Cosenza. Certamente non si possono prevedere altri posti letto di terapia intensiva pediatrica in altre strutture ospedaliere sia perché sono anti-economiche e sia perché è difficile acquisire le competenze specifiche. La cronaca è una vicenda che oggi ha davvero sconvolto. Il Cosentino, un 33enne, stamattina si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Il fatto è avvenuto dinanzi alla caserma dei carabinieri di Rende. È stato soccorso da alcune persone che lavorano nei pressi della caserma ma è in gravi condizioni. L'uomo avrebbe ustioni fino al 70% sul corpo e nel pomeriggio è stato trasferito nel centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. Ancora non sono chiari i motivi del gesto. Vediamo. Un drammatico gesto che non ha al momento una motivazione. Un 33enne Cosentino stamattina è arrivato con un'auto che risulta intestata ad una donna davanti alla caserma dei carabinieri di Rende. È presa una tanica che aveva portato con sé. Si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Una scena raccapricciante, dicono i testimoni oculari, tra cui alcuni gommisti che lo hanno soccorso utilizzando gli estintori del loro negozio. Sì, stamattina abbiamo visto una scena bruttissima, preferivamo non vederla. È una scena che raccontare proprio... Abbiamo visto quest'uomo che è sceso dalla macchina con questa tanica di benzina, mai pensando che fosse arrivato a questo folle gesto. L'abbiamo seguito, poi quando abbiamo visto di colpo che ha preso l'accendino con il mio collega, qui a fianco a me, abbiamo preso subito gli estintori, siamo subito corsi nei soccorsi per spegnere le fiamme perché abbiamo visto una montagna di fuoco che camminava e niente. Siamo stati fortunati che avevamo subito a portata di mano gli estintori. Siamo stati forse anche un po' coraggiosi. Non ho detto una parola, è scesa dalla macchina, è iniziata a sparsare con questa benzina e a un certo punto si è dato fuoco, senza dire niente, né scenni di sofferenza, di dolore, niente, né magari qualche parola, niente, proprio niente, fermo lì. Abbiamo visto solamente un uomo in preda al panico che bruciava vivo, sembrava una scena di un film americano, poi i ragazzi qua del quartiere, fra cui Roberto, sui intervenuti con l'estintora. Però la cosa veramente che mi ha lasciato sconvolto è vedere un uomo ardere vivo, senza dire un'imprecazione, niente. C'era una commiserazione veramente in lui straordinaria. Penso che questo sia un frutto di un disagio che alberga dappertutto. L'uomo incensurato lavora in Lombardia come docente ed era da poco rientrato in Calabria. Ha riportato ustioni gravi su oltre il 70% del corpo, deciso il suo trasferimento nel centro grandi ustionati di Napoli. Resta il mistero su quale disagio o problema abbia mai potuto provocare la sua azione eclatante. C'è anche il sindaco di Praia tra le persone rinviate a giudizio nell'ambito dell'inchiesta Amici in Comune dalla Procura di Paola. Vediamo. Rinvio a giudizio per tutti gli indagati dell'inchiesta Amici in Comune lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Paola. L'operazione della Guardia di Finanza di Scalea, scattata il 13 maggio scorso, coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, avrebbe fatto emergere l'esistenza di un sistema illecito in cui funzionari pubblici gestivano bandi e concorsi per favorire professionisti e imprenditori amici. Gli indagati accusati a vario titolo di reati di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, rivelazione di segreto d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico. In particolare i finanzieri attenzionarono nove procedure di gara relative al periodo 2019-2021. A processo andranno, tra gli altri, il sindaco di Praia Mare, Pratico e l'ex sindaco di Tortola Ramboglia. La Galleria Santo Marco verrà raddoppiata. Rete Ferroviaria Italiana ha presentato il progetto. L'intervento è già finanziato con risorse che hanno una cifra che va oltre il miliardo di euro dal Fondo Nazionale Complementare. Vediamo. Più volte negli anni si sono verificati i problemi all'interno della Galleria Santo Marco, tra Paola e Cosenza. Un collo di bottiglia rappresentato proprio dalla Galleria Singolo Binario lunga circa 17 chilometri. Adesso però c'è il via libera a raddoppio. RFI ha presentato il progetto e dentro il secondo semestre del 2022 è previsto l'avvio della gara d'appalto per la realizzazione dell'opera. Una notizia accolta con soddisfazione da Graziano Di Natale, già segretario questore del Consiglio regionale della Calabria e attuale consigliere comunale di Paola. Un nuovo percorso capace di accorciare le distanze, un progetto moderno che prevede un investimento di 1,2 miliardi di euro attraverso l'utilizzo del Fondo Nazionale Complementare. Un progetto che prevede la costruzione appunto di un percorso che si estende per circa 22 chilometri, di cui 17 in sotterranea. Questo è frutto di tantissime battaglie portate avanti lo scorso anno da tanti amministratori pubblici, da tanti sindaci, ma soprattutto da tanti cittadini liberi. Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria ha discusso su due temi molto caldi e molto sentiti dalla città metropolitana. Si tratta dei presunti brogli nelle amministrative del nuovo volto di Piazza De Nava. Vediamo. La prima attesa seduta aperta del Consiglio Comunale di Reggio Calabria di questa consigliatura sui presunti brogli alle comunali 2020 e il rifacimento di Piazza De Nava ha avuto luogo davanti a una trentina di presenti, meno dei consiglieri. 15 interventi. Alcuni di queste persone intervengono su due argomenti. Quindi la partecipazione c'è. L'aula è diciamo uno dei luoghi più sicuri che abbiamo, per questo si è pensato di farlo appunto qui. In apertura una dozzina dei presenti ha polemicamente abbandonato l'aula. Vari politici, dall'ex consigliere Beniamino Scarfone al presidente di Reggio Futura Italo Palmara e Francesca Stilitano del Codacons hanno dichiarato intollerabili i mancati accessi per le misure anti-Covid ma hanno pure contestato gli spazi ristretti di Palazzo San Giorgio e i sette mesi che ci sono voluti per convocare la seduta fattori che avrebbero menomato la partecipazione. In questo senso si sono espressi pure consiglieri comunali di centrodestra come Demetrio Marino di Fratelli d'Italia e il capogruppo forzista Federico Milia e soprattutto Massimo Ripepi di Coraggio Italia che ha platealmente strappato in aula il codice etico a suo tempo firmato dal sindaco Giuseppe Falcomatà per dare una proiezione plastica delle sue ripetute violazioni e della ritenuta scarsa trasparenza. Gli inquirenti hanno chiesto prima un supplemento di indagini di sei mesi successivamente hanno chiesto un altro supplemento di indagini e quindi sicuramente ne vedremo delle belle stiamo proponendo una commissione di indagini amministrativa perché non si verificano più quelle situazioni spiacevoli che si sono verificate. I rappresentanti di varie associazioni culturali hanno poi esposto la contrarietà alla demolizione di un luogo centralissimo e storico Piazza De Nava giusto di fronte al museo Sul tema Forza Italia e Reggio Attiva hanno avanzato un ordine del giorno affinché sia impedito ogni intervento di trasformazione o modificazione radicale della piazza. A Cosenza adesso perché con l'apertura della Porta Santa hanno preso il via le solenni celebrazioni per un compleanno importante sono gli 800 anni del Duomo di Cosenza la cattedrale sarà elevata a Basilica Minore presente per l'occasione anche il nunzio apostolico vediamo Con l'apertura della Porta Santa sono iniziate ufficialmente le celebrazioni per gli 800 anni della consacrazione della cattedrale di Cosenza la chiesa madre è simbolo religioso storico e culturale della città al via dunque le solenni celebrazioni ufficiate dall'arcivesco Francesco Nolè con la partecipazione del nunzio apostolico dureranno fino al 25 gennaio del 2023 Quante cose sono passate in 800 anni più o meno la memoria della città una città che è evidentemente ancora più antica e io penso che è un'espressione il centro di una comunità che dovrebbe creare e ricreare la comunione anche qui in questo bello centro vecchio che io spero che un giorno sarà ripreso in mano e anche ristaurato per creare un nuovo centro una nuova comunità per dare nuova vita intorno a questo santuario Alla messa solenne con le limitazioni imposte dalle norme anti-covid presenti autorità locali, civili e militari sull'altare è stata esposta la preziosa stauroteca dono dell'imperatore Federico II nell'occasione del giubileo il Vaticano è elevato la cattedrale a Basilica Minore il nunzio apostolico ha portato con sé la bolla pontificia emessa da Papa Francesco per la concessione dell'indulgenza plenaria Siamo allo sport si è chiusa alle 20 la sessione invernale del calciomercato il Cosenza acquista tanti calciatori buono il mercato anche per Crotone e Regina noi siamo collegati in diretta da Milano con la redazione del dot.it Grazie, grazie Rosalto per la linea è stata una diretta lunghissima maratona ringraziamo tutta la redazione del dot ovviamente tenne faccio un brevissimo riepilogo delle operazioni per quel che riguarda le squadre calabrese il Cosenza acquistato quindi come riepilogo definitivo Risto, Torgolo, Gliotti, Pisano, Di Patti, Camporese e Boga per quel che riguarda le cessioni tra il ranito Sueva, Gorsi, Minelli e Del Patti per quel che riguarda l'Aura si era parlato di un acquista o del calciatore francese mancherebbe un documento ma c'è tempo fino a mezzanotte anche per l'Arrivey ovviamente essendo svincolato l'operazione potrebbe concludersi anche nelle giornate successive a quella di Stasera poi per quel che riguarda il Trotone gli acquisti sono quelli di Calabria Aura, Fruec, Sert, Pekone Marras, Cangiano e Adecagne le cessioni di Molina, Donza, Varellato Benali, Rosi, Sodei e Iacupis per quel che riguarda la reggina anche gli acquisti sono quelli importanti di Aya, Cumpis, Poloruccio, Giraudo e Lombardi che è arrivato l'ultimo acquisto quasi giù fino di là la pre-gestione quelle di Casic dei fisi di ottimo Ricci, Fanole e Capio questi sono tutti i movimenti ringrazio ringrazio a te ringrazio a tutti è stata una grandissima esperienza abbiamo provato anche a contestare il DS Corretti ma è stato un brevissimo intervento ma ha rimandato poi alla conferenza stampa che verrà sicuramente fatta alla fine del mercato grazie a tutti e grazie alla redazione del dot.it per questo collegamento in particolare ad Andrea Orlando che avete visto e Pier Giorgio Giorno e per il lavoro che hanno svolto con i collegamenti nella lunga maratona pomeridiana condotta dalla collega Anna Franchino e noi chiudiamo con le altre notizie quelle della Borsa chiusura per lo più positiva per le borse europee a gennaio l'azionario ha registrato nel complesso la peggior performance mensile dallo scoppio della pandemia e la volatilità potrebbe protrarsi anche nei prossimi mesi complice la svolta restrittiva della Fed per contrastare le pressioni inflazionistiche dinamica che ha generato un appiatimento della curva dei rendimenti dei treasury ai minimi da un anno e ha innescato una rivalutazione dei segmenti caratterizzati da valutazioni più elevate nei prossimi giorni Francoforte dovrebbe ribadire un monitoraggio dell'inflazione senza modificare la linea di politica monetaria mentre l'istituto britannico potrebbe alzare il costo del denaro di 25 punti base allo 0,5% giunte le letture preliminari relative al PIL del quarto trimestre 2021 di Italia più 0,6% trimestrale più 6,4% sopra le attese ed Eurozona più 0,3% congiunturale più 0,4% tendenziale in linea con le stime nel 2021 il PIL italiano ha aumentato del 6,5% rispetto al 2020 contro il più 5,2% dell'area euro in Germania l'inflazione a gennaio ha fatto segnare un incremento al 4,9% annuo così il Putsmib di Milano archivia gli scambi in progresso dello 0,9% sostenuto in parte dalla rielezione di Mattarella e dai dati positivi sul PIL domestico ben intonati anche il Dax di Francoforte più 1% e il CAC 40 di Parigi più 0,5% poco mossi il Putsicento di Londra flette l'Ibex 35 di Madrid meno 0,3% a Wall Street il Dow Jones è sostanzialmente invariato lo S&P 500 guadagna lo 0,7% e il Nasdaq viaggia in rialzo del 2% sul Forex l'eurodollaro torna sopra quota 1,12% mentre il cambio fra biglietto verde e yen staziona 115,3% in modesto rialzo le quotazioni del greggio con il Brent più 0,3% 88,8% e il VTI più 0,4% 87% 3,2$ sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si contrae a 128 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,29% tornando a piazza affari tra le big cap avanzano soprattutto Amplifon più 4,6% poste italiane più 3,95% e Prismian più 3,7% mentre crolla Saipem meno 30,2% dopo aver ritirato la guidance si è avvisato che il bilancio 2021 si chiuderà con una perdita per oltre un terzo del capitale sociale in calo anche l'azionista Enni meno 2% oltre a Leonardo meno 1,2% grazie e buon proseguimento di serata non ci sono aggiornamenti ci fermiamo qui grazie per essere stati con noi e grazie a regia a Michele Cava immessi in onda a Giuseppe Costanzo e Luca Guercio noi vi auguriamo un buon proseguimento grazie a tutti aיתי